Oltre a verificare il rispetto delle norme sul coronavirus nelle aree protette, come personale dell'ente parco, nel limite del possibile, cerchiamo di continuare il monitoraggio sugli animali. Dopo una debole nevicata come quella dei giorni scorsi, è più facile trovare delle tracce. Ecco, abbiamo trovato una pista. Le impronte sono gelate, segno che non sono freschissime. Si tratta di un lupo. Proviamo a seguirla. L'animale sembra procedere senza fronzoli verso una direzione. Qui ci sono le tracce di altri animali. Si tratta di caprioli che hanno liberato il suolo dalla neve per cercare qualcosa da mangiare. In lontananza, infatti, vediamo apparire un diffidente capriolo dietro a un larice. Il lupo, dopo aver verificato la situazione, ha invece proseguito sulla sua strada. L'abbiamo seguita anche noi ancora per un po', ma poi la pista scende verso un versante scosceso e pericoloso. Considerata l'emergenza Covid-19, questo non è certo il momento di proseguire oltre. La prudenza prima di tutto. Registriamo il dato e torniamo sui nostri passi. Registriamo il dato e torniamo sui nostri passi.